100.000 euro per contribuire al restauro della chiesa matrice di Sant'Agata di Puglia, attualmente chiusa a causa di infiltrazioni di acqua piovana e la somma messa a disposizione da un noto costruttore che ha risposto così all'appello lanciato dal comune. A Sant'Agata di Puglia sono molto affezionati a questo luogo di culto, chiuso da più di un anno a causa di gravi infiltrazioni piovane che hanno compromesso la stabilità del tetto. La diocesi di Foggia Bovino non ha i fondi a sufficienza per proseguire il restauro, perciò il comune ha lanciato un appello a tutti i cittadini affinché contribuisca economicamente ai lavori della chiesa matrice di San Nicola. Una maxicolletta a cui ha subito aderito uno dei sant'Agatesi più illustri, il costruttore Michele Perrone, tra i più noti imprenditori edili non solo della provincia di Foggia, Perrone ha donato ben 100.000 euro per consentire la prosecuzione del restauro. Da sempre il costruttore è un benefattore nel suo paese, avendo già contribuito alla ristrutturazione e al mantenimento della casa del sacro cuore di Gesù che ospita una cinquantina di anziani. Speriamo che per quanto riguarda la chiesa di San Nicola ci sia una solidarietà di tutti e modestamente a datemi i contributi. Noi ci rivolgiamo a tutti i sant'Agatesi del mondo di buona volontà per riportare all'antico splendore la chiesa di San Nicola.